Diplomata alla Scuola d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, è ancora un'allieva quando inizia a recitare in alcune rappresentazioni dirette da Giorgio Streller. Svariati sono poi i ruoli interpretati in spettacoli di teatri stabili e di compagnie di giro. Nel biennio 1966-68 prende parte a una nuova messa in scena di Streller dell'Arlecchino Servitore. Di due padroni di Goldoni. Nel ruolo di Smeraldina, con Ferruccio Soleri va in tournée all'estero con Arlecchino L'amore e la fame. Spettacolo sulla commedia dell'arte e sull'opera di Goldoni. In seguito recita con Arnoldo Foan e il teatro comico. Sempre di C, Goldoni, lavoro allestito dal teatro stabile di Bolzano. Negli anni 70 prende parte agli allestimenti. Entrambi diretti ed interpretati da Antonio Salines. Dell'educazione parlamentare. Testo di Roberto Lerici. È la commedia Czader Belli. La prima risale all'11 dicembre 1974. Ambe due messi in scena dalla compagnia stabile del Teatro Belli di Roma. Recita poi in testi di autori tedeschi contemporanei come Quartet di Heiner Müller con Francesco. Carne e Lutti. Per la regia di Flavio Ambrosini. Chi va per le fronde di F. X. Croetz con Remo Girone. Direzione di Flavio Ambrosini. È in assenza del signor. Goethe di Peter Axe. Esordisce come regista con l'allestimento della locandiera di C. Goldoni al TTM USN di Stoccarda. Segue al Teatro Nazional di. Maria II di Lisbona. La direzione rispettivamente di Nausenza dosenor von Goethe. Versione in portoghese della psdp. Axe. E di O Poder do di Nero con Fernanda Alves e Luis Madureira. Tornata in Italia. Dirige a tavola con Carlo Goldoni e successivamente quattro cosmi comiche di Italo Calvino di cui è anche. Protagonista.